Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura parliamo di ticket sanitario, migliaia di autocertificazioni bugiarde in arrivo dalla ASL Toscana Centro, una valanga di verbali pensati per un ammontare complessivo di 1.740.000 euro. Ci racconta tutto Nadia Tarantino, vediamo. 5.900 verbali di accertamento spediti dall'ASL Toscana Centro in seguito alle verifiche sulle autocertificazioni di esenzioni dal ticket. 3.192 nella provincia di Firenze, 1.224 in quella di Prato, 827 in quella di Pistoia, 666 nell'Empolese. Prosegue l'attività di recupero crediti avviata dall'azienda sanitaria che ha confezionato le migliaia di atti giudiziari destinati a quei cittadini che nel 2018 hanno beneficiato dell'esenzione autocertificando condizioni economiche che non sono risultati attinenti alla realtà. 1.740.000 euro l'ammontare complessivo delle contestazioni. La valanga di verbali è il risultato di controlli sulle esenzioni con codice E01, E02, E03 ed E04 che non sono risultate conformi a uno o più parametri tra quelli che fanno scattare la cancellazione del ticket. Reddito del nucleo familiare, stato dichiarato di disoccupato o dipensionato con reddito minimo. A trasmettere i controlli che hanno dato esito negativo è stato il Ministero delle Finanze che ha scritto all'azienda sanitaria per comunicare che quanto autocertificato non aveva trovato riscontro nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e del Ministero del Lavoro. L'accertamento inviato al cittadino notifica sia la violazione dell'articolo 316 del codice penale, cioè l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e ordina il pagamento del ticket di tutte le prestazioni sanitarie effettuate e maggiorate di una sanzione che è pari al ticket ma solo se il pagamento avviene entro 60 giorni. In alternativa è possibile entro 30 giorni presentare documentazione difensiva per controbattere al contenuto del verbale. C'è aria di scontro tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e la Regione Toscana sui rimborso che dovranno fornire ma stiamo applicando una norma dello Stato così l'assessore Bezzini ospite questa mattina la rassegna stampa. Tutti i dettagli in questo servizio. La Regione Toscana ha inviato 1400 lettere alle aziende che producono dispositivi medici per attuare il cosiddetto meccanismo del payback e rientrare almeno in parte del buco di bilancio di circa 500 milioni di euro. Ma che cos'è il payback? Massimiliano Boggetti, CEO di DS Diagnostica Senese e Presidente Nazionale di Confindustria Dispositivi Medici lo spiega così. La Regione fa una gara per comprare tecnologie mediche, le aziende partecipano, vince chi fa l'offerta più vantaggiosa e l'impresa è obbligata a fornire le quantità indicate in gara. Ma poi spiega Boggetti, contrario al meccanismo che giudica iniquo anche perché chi partecipa alle gare e le vince ha spesso tirato il prezzo al limite, il Governo in modo unilaterale fissa i tetti di spesa delle Regioni che paradossalmente sono più bassi della somma delle gare attivate. Così la Regione sfora e noi dovremmo restituire metà dell'eccedenza. In effetti la Regione, sfruttando una norma del 2015 mai applicata finora, è simile a quanto avviene per i farmaci, da questi arretrati, calcolati dal 2015 al 2018, dovrebbe ricavare circa 350 milioni di euro, una bella boccata di ossigeno per il bilancio. Se questi soldi non arrivano ce li deve dare il Governo, è la posizione del Presidente Gianni. Gli imprenditori sapevano di dover rimborsare le ASL. Chiediamo solo l'applicazione di una norma dello Stato, sottolinea l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, ospite questa mattina a refresh la rassegna stampa di Toscana TV. Questo, diciamo, fino ad ora non era avvenuto, poi lo Stato ha fatto nell'estate scorsa le norme attuative e quindi le Regioni, diciamo, vantano un credito. Ecco, se lo Stato intende in qualche modo mitigare questa situazione nei modi che dovesse ritenere opportuno, diciamo, poi deve trovare le risorse per, diciamo, risarcire, tra virgolette, le Regioni, perché altrimenti si produce un danno di natura contabile, ripeto, che deriverebbe da contraddizioni nelle norme dello Stato e che si scaricherebbe sulla sanità. Quindi ho condivido totalmente la posizione del Presidente Gianni. Questa è una questione che ha determinato lo Stato, cioè le Regioni sono solo soggetto a patorie. I fornitori di dispositivi medici sono però sul piede di guerra e stanno perfezionando ricorsi al TAR e si occorre anche un appello al Presidente della Repubblica, con tempi superiori però ai termini imposti per i rimborsi. E sulla questione payback è intervenuto Fratelli d'Italia che ha presentato in Commissione Sanità un ordine del giorno per chiedere di sospendere i pagamenti del payback fino a quando non si saranno pronunciati i tribunali amministrativi nel caso in cui ci siano numerosi ricorsi impugnative da parte delle imprese. Siamo a Firenze, Federe Alberghi dice torna a crescere il turismo addirittura con numeri da pre-pandemia nel centro del capoluogo toscano sono occupati l'80% degli alberghi. Rachele Campi I numeri sono confortanti perché la curva dell'andamento dell'afflusso di turisti a Firenze sta risalendo anche con una certa velocità che ha sorpreso gli albergatori. Si sta tornando come dati al periodo pre-pandemico, il 2019. Certo è che le strutture devono fare i conti con il caro energia gli alberghi sono aziende energivore, ci dice Francesco Becchi, presidente di Federe Alberghi Firenze senza contare tutto ciò che alle strutture ricettive è annesso come il servizio lavanderia, ti ha visto un'impennata dei costi del 30% ma la boccata d'ossigeno in questo periodo natalizio proseguirà fino al primo dell'anno l'affluenza maggiore si è registrata negli alberghi 3-4 stelle con una permanenza media di due notti che va ad aumentare per i soggiorni in appartamento o in strutture extra alberghiere certificate. Stesse regole, stesso mercato, il problema resta l'ospitalità non dichiarata. L'andamento delle presenze turistiche nel periodo natalizio sono molto buone, sono molto positive siamo con un'occupazione a partire dal 27 dicembre, quindi da oggi intorno a un 75-80% nel centro storico di Firenze, nelle aree periferiche l'occupazione è leggermente più bassa il trend è in crescita in previsione per il 30-31 dicembre dove dovremmo raggiungere anche il 90% dell'occupazione. In un momento in cui le strutture tengono sotto controllo gli equilibri finanziari ci sono ottime novità per le prenotazioni in alta stagione, da maggio a ottobre 2023. Tornano infatti gli americani, gli alberghi 5 stelle sono stati presi d'assalto ed è tutto un fatto di cambio di valuta essendo l'euro in questo momento meno competitivo rispetto al dollaro. Il dato importante però è la conferma della grande ripartenza che abbiamo avuto a partire dalla primavera di quest'anno e quindi è un incoraggiamento anche per un settore che ha veramente sofferto tantissimo durante gli anni della pandemia. Il Consiglio Comunale di Calenzano, siamo alle porte di Firenze, ha approvato una mozione, un ordine del giorno che conferma la contrarietà al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista anche come previsto dal nuovo masterplan, i cui contenuti ripropongono interamente, si legge nella mozione tutte le criticità e gli impatti negativi presenti nel precedente progetto. Questa opera andrà a stravolgere l'assetto della Piana Fiorentina, conferma, affermi una nota il sindaco di Calenzano impattando negativamente sulle infrastrutture, sul congestionamento del traffico, sul reticolo idriologico del territorio. Fipilì e Autopalio sempre più vicine al via l'ultimo lotto della variante. Vediamo. Partiranno entro gennaio i lavori del terzo lotto della variante alla strada regionale Toscana 429, l'ultimo che restava da realizzare nella Valdelsa con un collegamento finalmente diretto tra Empoli, quindi la Fipilì e Pogibonsi, cioè l'autopalio. Si tratta di 4 chilometri che verranno realizzati nel giro di 3 anni a partire dalla rotatoria di Certaldo Ovest fino alla strada provinciale Volterrana, Castelfiorentino Est, interessando i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Certaldo. L'opera, attesa da decenni, anche se negli ultimi anni c'è stata un'accelerata, accorcerà notevolmente i tempi di percorrenza tra Pogibonsi e Empoli. Ne beneficeranno i cittadini, ma anche tutto il tessuto economico della Valdelsa, spesso penalizzato dalla mancanza di infrastrutture di collegamento verticale nella nostra regione. Quelle zone industriali, che abbiamo qui, industriali e artigianali, non addarghiamoci troppo, che abbiamo qui, tipo quella di Case Nuove, che era una zona che era in contrazione, da quando è stato ultimato il quarto lotto che porta a questa rotatoria, è una zona che ha fermato la contrazione ed è in espansione. I finanziamenti, 30 milioni di euro, arrivano dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalla Regione Toscana. Voglio ricordare che è un appalto che è gestito direttamente dalla Regione Toscana. Siamo stati un appaltante, siamo soggetto attuatore, ha vinto un'impresa toscana, quindi confidiamo anche una regolare esecuzione di questa opera. Il contratto d'appalto prevede che l'ultimazione dell'opera dovrà avvenire 1095 giorni dalla consegna dei lavori, che partiranno entro gennaio, appena verrà rilasciata l'autorizzazione da parte di Arpat per il piano ambientale di cantierizzazione. La fine dei lavori è dunque prevista per il settembre 2025. Tra le opere sbloccate dal Ministero delle Infrastrutture in Toscana troviamo lo scolmatore di Camporegio, siamo a Orbetello nella provincia di Grosseto, nonché gli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali per un importo complessivo di 12.317.000 euro. E ora la cronaca, siamo a Prato, scattotata con lancio di sedie e tavolini, al via il processo per la Maxiris in via Sette Soldi, una delle strade della Movida Pratese davanti al giudice. 40 ragazzi e una ragazza. Il servizio vediamo. Fu una notte di violenza, cazzotti e calci, lancio di tavolini e di sedie usate anche per assestare colpi alla cieca in un clima da far west. Protagonisti diversi giovani, tra i 20 e i 30 anni, tutti italiani, residenti a Prato e qualcuno a Vaiano, divisi in due gruppi rivali. I feriti furono un paio. Una notte di follia, quella che andò in scena il 29 febbraio di due anni fa in via Sette Soldi, una delle strade della Movida Pratese. Il prossimo 26 gennaio, per quei fatti, si aprirà il processo. 15 gli imputati, 14 ragazzi e una ragazza, accusati di rissa aggravata dal sostituto Laura Canovai, titolare dell'inchiesta. A loro i carabinieri arrivarono, dopo la visione delle immagini diffuse sui social, dai tantissimi testimoni che affollavano i locali della strada e che si ritrovarono in mezzo ai disordini. Il processo è a citazione diretta, così come prevede il reato contestato. Gli imputati sono cioè chiamati a rispondere di rissa aggravata direttamente davanti al giudice, senza passare dall'udienza preliminare. In questi giorni stanno arrivando le prime richieste di patteggiamento, ma è presto per fare un bilancio di quanti chiederanno un rito alternativo al dibattimento. Le indagini non hanno mai chiarito con precisione quale fu il motivo alla base di quella violenta rissa, forse scatenata da qualche bicchiere di troppo, da qualche parola in più o da ruggini tra rivali. Torniamo a Firenze per parlare dell'apertura di Palazzo Vecchio. Il giorno di Natale è stato un successo, c'è stata prima polemica, ma insomma è andato tutto bene. Era l'unico museo aperto a Firenze quel giorno. Vediamo. Il sindaco Nardella aveva ammesso che l'amministrazione si era mossa un po' troppo tardi, ma la sua decisione di aprire per la prima volta i musei civici il giorno di Natale e quello di Capodanno con orario allungato, è stata un successo di pubblico. Il museo di Palazzo Vecchio ha aperto alle 14 il 25 dicembre e in mezza giornata sono stati staccati 730 biglietti, quasi il doppio della media giornaliera. In un'intera giornata normale, infatti, Palazzo Vecchio registra circa 400 visitatori. Il 70% delle presenze il giorno di Natale era, come previsto, composta da stranieri, ma il 30% erano italiani. È la dimostrazione che la domanda di cultura tra cittadini e turisti è altissima e che anche nel pomeriggio del 25 dicembre c'è stata voglia di arte, ha commentato la vice sindaca Alessia Bettini parlando di risultati oltre le aspettative. Siamo contenti di aver fatto questa scelta di aprire Palazzo Vecchio e per questo ringraziamo per primi i lavoratori. Grazie alla bella affluenza di questo Natale, conclude, confermeremo l'apertura anche per le prossime volte, ma ci muoveremo con molto più anticipo. L'accordo con i sindacati alla fine in effetti era stato raggiunto, ma non ha placato le polemiche, soprattutto da parte della RSU di Rear, che si occupa della sorveglianza. Gli accordi di cui si è parlato tentano di mettere una pezza a delle tempistiche che non sono state appropriate, insistono. Intanto si replica il giorno di Capodanno, quando Palazzo Vecchio e il Museo del Novecento apriranno alle 11 di mattina. Il ministro della Cultura San Giuliano critica il fatto che il biglietto degli uffizi sia inferiore come costo a quello dell'Uvro. Lo è ora nella bassa stagione, lo è di più nell'alta stagione. Il direttore degli uffizi, a proposito di un possibile aumento, ha detto che spetta al Sistema Nazionale dei Musei Statali e decidere quanto può costare il biglietto. Vediamo. Abbiamo veramente dei numeri estremamente positivi per l'apertura straordinaria del giorno di Santo Stefano. Ieri abbiamo accolto qui agli uffizi 4.800 persone, più quelli che sono venuti a Boboli, quasi 2.000. e quindi questo è, oltre la media, un successo durante un lunedì, quindi un giorno che normalmente sarebbe chiuso. Così il direttore delle gallerie degli uffizi, Aike Schmidt, che però non vuole tornare sulla polemica con il sindaco di Firenze in merito alle aperture dei musei nel giorno di Natale. Nardella aveva tra l'altro detto che Schmidt aveva fatto fare una figuraccia alla città con la mancata apertura per ogni santi. Sui musei fiorentini il ministro della cultura San Giuliano parla di prezzi dei biglietti troppo bassi rispetto al resto del mondo. Altrove i musei sono molto più cari dei nostri. Il biglietto del Louvre costa più degli uffizi e allora mi chiedo se il Louvre valga di più degli uffizi. Dobbiamo riflettere su tutto ciò, avendo comunque un sistema che tutela le fasce deboli, ma dobbiamo attrezzarci per far riconoscere il nostro valore. Dal 1 novembre al 28 febbraio il biglietto della galleria degli uffizi costa 12 euro, mentre dal 1 di marzo al 31 ottobre costa 20, contro i 17 del Louvre. In questo momento abbiamo la bassa stagione proprio perché oltre tre quarti dei visitatori sono italiani e invece in alta stagione siamo paragonabili con il Louvre. Per quanto riguarda l'aumento del prezzo del biglietto questo naturalmente va fatto all'interno del sistema nazionale dei musei perché sarebbe strano di avere un museo importante che costa meno di un museo meno importante. e quello che è chiaro è che il Louvre ha una sola gioconda noi invece abbiamo 60 o 70 gioconde. Restiamo agli uffizi dove riapre la biblioteca magliabechiana dopo 20 mesi di lavoro o di restauro sarà restituita così ai fiorentini e ai suoi studiosi. 20 mesi di restauro e la biblioteca magliabechiana di Firenze torna a nuova vita. Sono stati fatti interventi di consolidamento strutturale ed è stato rinnovato il sistema di illuminazione. Direttore, dopo 20 mesi riapre una biblioteca importantissima per Firenze. Questa biblioteca come struttura architettonica è veramente importantissima per l'intera nazione italiana perché era qui che c'era prima la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e già nel 1700, tra la fine del 6 e inizio del 1700 nacque qui proprio la biblioteca che era alla base della collezione della Biblioteca Nazionale. Abbiamo l'architettura su disegno di Giovanni Battista Foggini e poi dei suoi allievi e quindi anche da un punto di vista architettonico siamo in uno spazio straordinario. Nei anni recenti, però, a partire dal 1998 qui c'è anche proprio la Biblioteca degli Uffizi e quindi abbiamo i volumi di storia dell'arte, di museografia e di storia locale che costituiscono questa biblioteca di decine di migliaia di volumi, riviste, eccetera e quindi è una risorsa importante per gli studiosi dell'arte che ora diventa di nuovo accessibile. E ora con Eleonora Barbieri andiamo a Prato e più precisamente al Parco Giochi in Via Turchia c'è stato un sopralluogo nell'area verde dell'assessore alla città, curata Cristina Sansocci racconta tutto Eleonora Barbieri Cinque giochi alti due metri una trentina di panchine un bar di oltre 100 metri quadrati con 26 posti a sedere e uno spazio fuori coperto da tettoia sono i numeri del nuovo Parco Giochi che sorgerà in Via Turchia forniti dall'assessore alla città, curata Cristina Sansocci stamani ha effettuato un sopralluogo nell'area di 6.000 metri quadrati dove sorgerà il secondo Parco Giochi della città dopo il giocagio gli uffici sono già al lavoro per preparare il progetto esecutivo che permetterà di andare a gara l'obiettivo è terminare i lavori per la primavera del 2024 lo spazio, completamente recintato sarà curato da chi vincerà il bando per la gestione il costo sfiora in 900.000 euro al netto dei 30.000 che metterà il comune per la recinzione si tratta di due annualità dell'indenità di disagio ambientale istituita da una recente legge regionale per le città che ospitano impianti di rifiuti e pare a una percentuale di tari pagata dai cittadini da un lato proprio perché la compensazione doveva interessare in via prioritaria la frazione di San Giusto e poi anche perché questa è un'area densamente abitata dove abbiamo edilizia popolare credo che sia importante anche una risposta in termini proprio di socialità verso questa comunità la struttura dotata di illuminazione avrà un'attenzione particolare all'ecosostenibilità ad esempio attorno ai giochi non ci sarà la gomma anticaduta ma bensì corteccia e il progetto è stato studiato in modo da non abbattere alcun albero sono previste anche nuove piantumazioni il parco ingloberà l'attuale giardino con giochi quelli in buone condizioni saranno mantenuti nella nuova struttura e questo è l'anno anche dei regali sostenibili grande successo per gli abiti di seconda mano vintage ci racconta tutto Tra Cale Campi questa è una giacca molto particolare confermo la sua particolarità è una giacca in paillette in paillette tutte lavorate a mano è una giacca degli anni 80 qui siamo di fronte a un capolavoro è un abito in seta con tutte queste applicazioni di fiori in seta e applicazioni in metallo sono abiti di seconda mano vintage gli affari vanno bene sono sempre più le persone che si avvicinano a indumenti già precedentemente usati l'attenzione alla qualità però non manca adesso vedo anche tra i ragazzi tra le persone un po' più giovani non soltanto tra gli adulti la ricerca del tessuto quindi vanno a cercare il tessuto buono cominciano già a distinguere la seta dalla viscosa la seta dal polieste vedo che c'è una ricerca di qualità vedo anche sinceramente una ricerca anche sostenibile sostenibile perché non molti sanno che il secondo agente più inquinante nel mondo è il poliestere e all'interno dell'abbigliamento molto spesso dei capi moderni si trova dei capi anche da prezzo si trova una buona componente di poliestere senta ma è vero che la moda ritorna sempre? questo posso testimoniarlo ormai sono 27 anni che faccio questo lavoro e noi come tanti altri probabilmente facciamo consulenza con le più grandi aziende per quel che riguarda le nuove collezioni la moda non smette mai di guardarsi indietro e ora andiamo nella provincia di Grosseto a Orbetello e più precisamente in Duomo è stato realizzato un presepe ambientato nella laguna Carlo Sestini un presepe unico e suggestivo quello che è stato allestito nel Duomo di Orbetello e che accoglie i visitatori una rappresentazione sulla laguna con la Santa Famiglia ritratta sopra un'imbarcazione in mezzo ai cannicci e alle acque niente pastori o greggi dunque al loro posto folaghe fenicotteri rosa nasse remi e reti da pesca e gli strumenti caratteristici in uso ai pescatori per sfondo non la classica Betlemme con i palmizi imbiancati ma le acque della laguna con le canne affioranti colori toni e ambientazioni propri di questa parte di Toscana quella più a sud zona protetta e manutenuta dai pescatori che vi lavorano area umida chiusa dai connotati unici e caratteristici nella sua fragilità spesso in sofferenza scelta come scenografia e ambientazione per una natività che vuole richiamare l'attenzione su questo lembo di Maremma e questa sera lo speciale faccia a faccia di Telegram con Alessio Poggioni l'ospite sarà Don Andrea Bigalli giornalista parroco referente di Libera in Toscana vediamo un breve estratto di certo c'è una cosa che rifare di sicuro cioè rifare quello che faccio adesso cioè il pesbitero il pastore è un uomo che bene o male insomma con grandi imperfezioni con grandi limiti ha cercato di dare la propria vita per le persone ecco questa è una cosa che giusto appunto all'età che indicavi ho cercato di focalizzare ma ha portato proprio a delle scelte che non si sono compiuti il tipo per esempio studiare medicina io poi interrotto per entrare in seminario ma insomma ecco questo umanesimo di fondo questa affezione agli esseri umani soprattutto a quelli più fragili è sempre stato un po' un rovello della mia vita e solo attraverso il cristianesimo io ho trovato risposte guarda io lo dico con grande pacatezza lo vado dicendo in vari contesti mi dico anche qui io ho grande rispetto per le altre spiritualità grande rispetto per le grandi religioni le grandi intuizioni ma anche qualunque moto di trascendenza anche molto laica che gli esseri umani sperimentano però ti posso dire sinceramente che al di fuori del cristianesimo probabilmente io sarei ateo perché a me è un Dio che non si incarna un Dio che non entra nella dimensione umana che non soffre insieme a noi non è un Dio che a me parlo per me pare un Dio credibile quindi se tu vuoi c'è un percorso di identità cristiana io nel corso degli anni ho molto approfondito diciamo pure radicalizzato ma non nel senso delle opposizioni agli altri modi di concepire Dio ma indicando che quello è il modo che risponde alla mia sensibilità e prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21.15 il film su Toscana TV City Island con Andy Garcia grazie per averci seguito buona serata a tutti e arrivederci